e quindi lavorare, un po' come forse immagino sia anche successo a lei, no? Assolutamente, assolutamente. Anche se, dico per fortuna, io non ho visto gli attentati all'aeroporto di Zavent e nella metropolitana, ne ho sentito il rumore, ho sentito, ne ho visto gli effetti, ho visto il panico che si è generato durante la giornata, anche perché quell'attentato aveva delle dinamiche militari, quindi si temeva che ci potessero essere altri attacchi alle istituzioni o in città, quindi c'è stato un fuggi-fuggi generale. Però ecco, lei ha visto la città blindata i giorni successivi, io mi ricordo, no? Allerta 4 per quasi una settimana. In Bruxelles ci siamo abituati alla militarizzazione, perché di fatto io esco di casa, incontro militari col mitra che girano come è normalità, cioè i bambini di Bruxelles sono abituati a vedere i militari in assetto di guerra, cioè ormai ci si è abituati alla militarizzazione, qualcosa che magari non era normale fino a qualche anno fa, fino a qualche tempo fa. Ma contro un camion che ti viene addosso... Queste appunto sono dinamiche molto diverse, infatti io aspetterei di capire che tipo di azione... che si... Grazie. Grazie.